Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. È pericoloso, scoppia. Massimiliano varresse contro Mirko Brunetti. Attimi di forte tensione al grande fratello durante il lancio della pubblicità. Proprio così, durante la diretta, e dopo un acceso dibattito tra Mirko Brunetti, Per Lavatiero e Giuseppe Garibaldi, Alfonso Signorini lancia i consigli per gli acquisti. Ed è proprio a questo punto che decide di intervenire Massimiliano varresse e dire qualcosina di molto pungente a Mirko Brunetti. Come sappiamo fin troppo bene, Brunetti, ex partecipante al reality, ha dichiarato di non provare gelosia per l'amicizia tra i due concorrenti, sostenendo che non crede che l'assistente scolastico nutra un interesse particolare per l'ex di Mirko. Tuttavia, il ragazzo non si è fermato qui cisto che ha lanciato anche un affondo a Massimiliano varrese. Al termine del suo intervento, Brunetti ha voluto rivolgersi direttamente all'attore. Parlando ad Alfonso Signorini, Mirko Brunetti ha chiesto, ma Max mi sente? Ricevuta una risposta affermativa, ha proseguito, Max, non ho bisogno di fare il gioco da fuori perché penso tu te ne sia accorto venerdì con l'aereo che è passato. Varrese, che fino a quel momento stava sorridendo a pieni denti, ha improvvisamente cambiato espressione. Non ha avuto l'opportunità di rispondere, poiché il presentatore ha interrotto il discorso e ha chiuso il collegamento con la casa. Gli spettatori hanno notato che l'attore ha cercato di dire qualcosa, ma non è stato udito. Tuttavia, sappiamo che durante la pubblicità ha espresso il suo disappunto agli altri inquilini, bisogna tenere a bada Lego, altrimenti scoppi. Lego è pericoloso, ti gonfi come un palloncino ma poi scoppi e cadi con il C.O. a terra. Si tratta di un'affermazione molto forte che potrebbe essere ripresa nella prossima diretta di martedì 23 gennaio 2024. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi e se ci saranno altri aerei a sorvolare la casa, portando a nuove discussioni, proprio come è accaduto durante l'ultima puntata del Grande Fratello 2023.